Insomma, Pigrego sta per Gregorio Procopio, però in arte è Pigrego. Adesso questa mostra personale è qui alla Chiesa degli Artisti, la Chiesa di San Giorgio al Corso. Insomma, 23 opere, 24, 26. Anzi, in più c'è un dipinto che ritrae il Cristo, la passione che ho donato a Don Nuccio, il quale non smetterò mai di ringraziare per avermi... Diciamo più che a Don Nuccio alla Chiesa. Sì, alla Chiesa. Che è rappresentata da lui. Io non sono tanto per... sì, perché non smetterò mai di ringraziare la Chiesa e Don Nuccio, che comunque è il rappresentante di questo Tempio, per avermi ospitato e avermi consentito di esporre in questo luogo centrale di Reggio Calabria. Ecco, scorci calabresi, insomma, vediamo in queste 26 opere spezzoni di borghi nostri calabresi, a volte anche dimenticati o abbandonati. Insomma, una ricerca del colore, della prospettiva, la tua, che comunque riesci a cogliere nel segno. Sì, diciamo che a me, ecco, l'architettura, anche per i miei studi, mi ha sempre affascinato. Quindi le case, le palde, ecco, la morfologia urbana dei bordi calabresi. Poi, ecco, è una ricerca anche cromatica, perché comunque la tavolozza... C'è tanto azzurro. Sì, è una tavolozza recente, questo contrasto azzurro-arancio, che spicca spesso in questi dipinti, fanno parte di questo, diciamo, di questo 2022. Sono partito per gioco, realizzando il dipinto di Pentidattilo e da lì ho pensato, quindi, a fare una rilettura di diversi borghi, tra cui, ecco, come tu hai annunciato all'inizio, borghi anche pochi conosciuti, ma sicuramente che affascino, tipo Papasidero, poi, vabbè, c'è Pentidattilo, Borgo Fantasma, però, ecco, pittoresco, è conosciuto... Suggestivo. Suggestivo, sì, tipo Galicia, no, altri più conosciuti, tipo, che è una rega di Scilla, che non la conosce, Gerace, c'è un po' di tutto, c'è un mix, poi c'è anche la zona mia, Montauro... Ecco, hai detto poco fa, fuori dai microfoni, che è un percorso che è nuovo, che è intrapreso da tre mesi, che ti sta stuzzicando un po' la creatività, quindi, anche qualche tocco, non solo figurativo, perché poi il figurativo può essere simile, uguale a tanti altri, però, sì, come vediamo qui nel Santuario della Madonna del Carmine di Bagnara, Calabra, c'è qualcosa di tuo, di introspettivo tuo, quindi, è un'evoluzione, Anche perché io, personalmente, dipingo, per me dipingere non è un lavoro, è un divertimento, ed è alla base del mio dipingere, finché mi divertirò, io continuerò a dipingere, nel momento in cui mancherà questo piacere, come quando uno va e fa una peta a carte, gioca a carte perché si rilassa, si diverte, eccetera, io dipingo con lo stesso entusiasmo, col piacere, col divertimento, Nel momento in cui, ed è solo obbligato a dipingere, no, là non dipingo, cioè, le cose, magari escono pure, ma non escono, come è uscito, come è uscita la chiesa di Bagnara Calabra, la chiesa del Carmine, Ecco, è un mix di divertimento, di tutto, di cromie, e che rispecchiano anche lo stato d'animo. Allora, ci viene da dire, così chiudiamo questa intervista, speriamo che Pi Grego continui a divertirsi, così abbiamo la possibilità di gustare le tue opere, che per certi versi somigliano, alcune pennellate somigliano a quelle dell'Arciere, questo ci tengo a dirlo, per me è un onore, è un piacere anche, insomma, quindi trova tutto il mio riscontro. Insomma, la mostra, alla fine, come sta andando? Bene, e comunque Luigi ti ringrazio per queste interviste che mi stai facendo, perché sono dei colloqui nostri. Gentilissima, sei gentilissimo sempre, non è la prima volta che lo fai, quindi non ho modo di ringrazarti per la pubblicità, perché è importante anche la pubblicità, farsi conoscere in giro. È importante pericolare, come è andata la mostra fino ad ora? Benissimo. A parte il caldo che comunque incide anche sull'afflusso, però insomma... Soddisfatto, soddisfatto. Grazie.